Velocissimi, grazie a tutti voi, grazie soprattutto a chi non è in questa aula e segue in diretta, temporalmente in diretta, ma non nello stesso spazio. Come sapete questo è un ciclo, questa è la terza lezione, il giorno di prossimo abbiamo l'idea è di invitare i protagonisti dell'anitettura contemporanea che si sta nascendo a Milano e di farlo non semplicemente chiedendo loro di raccontarci la nascita di un progetto per Milano, ma chiedendo loro anche di parlare e discutere sul ruolo di quel progetto rispetto ad altri progetti che sono parte della loro vita di ricerca e professionale. Per questa ragione finisco, con noi sul palco ci sono un gruppo di studenti del Master internazionale di architettura del Politecnico che subito dopo la public lecture di Cazzullio Segima faranno all'architetto Segima delle domande e quindi ci sarà un secondo momento più di discussione e soprattutto dopo la lezione. Io vi ringrazio e do la parola a Cazzullio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Thank you very much for inviting me to have a lecture here. It was very interesting for me. And today I'd like to start my presentation from the 21st Century Museum in Kanazawa. Because sometimes the slide is very wide. Quindi, se possibile, è il ritorno della luce. Il museo Canadava completato 10 anni fa. E questo progetto è stato un tipo di medio di... Questo è stato in 15 anni. È stato quasi un po' di parte della mia carriera. Questo progetto è stato in questo progetto. E prima che ho iniziato, e ho sempre spiegato, che sono molto interessanti nella relazione tra l'intero e l'intero spazio. Però, con il Mazzava, ho provato più a pensare la relazione tra i l'intero. E, ovviamente, stiamo molto interessanti a pensare come pensare con i programmi e quali tipo di plan per fare un nuovo modo di usare. Ma, inoltre, 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 e che da chiedza a una sondazione e se inoltre, e inoltre ciamui Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.